Coach Ramagli, prima di parlare di Treviso, un paio di considerazioni su quello che è stato l'impegno con Siena. Innanzitutto lei ha parlato di un'organizzazione da rivedere, la squadra che ha dato molto fisicamente, ma a livello organizzativo c'è da fare di più. Ha potuto lavorare da questo punto rivista in questi giorni? Sì, abbiamo lavorato, ma non è che due giorni ti cambia la vita. L'organizzazione la trovi in un periodo più lungo, nella conoscenza reciproca, nel lavoro quotidiano, quindi due giorni ti aiutano ma non risolvono il problema. Ma questo lo sapevamo, quindi io penso che quando metti intensità e atteggiamento e stai in partita con loro, dimostrando di essere competitivo, credo che questo sia il primo passo, poi l'organizzazione verrà. Per quanto riguarda invece due dati statistici, i tre punti della panchina e i zero tiri liberi tentati da Di Brown, una contingenza o c'è dell'altro? Ma sai, Di Brown è stato braccato per tutta la partita e secondo me in qualche occasione, qualche fischio per lui che avrebbe potuto mandarlo in lunetta ci sarebbe anche stato. Però questa è stata la valutazione degli arbitri, non sto a ritornare su una partita giocata un po' di giorni fa. Per quanto riguarda l'impatto della panchina, è chiaro che la nostra panchina deve dare di più, deve dare di più dal punto di vista, se non altro, dell'atteggiamento, della durezza. Nel momento in cui c'è stata tanta rotazione, noi siamo andati sotto rapidamente, quindi se non si fa canestro si deve avere la forza di non farlo fare agli altri, magari spendendo falli, magari giocando con una durezza diversa. Però questo è un percorso di crescita, un percorso di conoscenza reciproca, soprattutto è una partita contro un avversario molto particolare, quindi in questo senso è una partita che non fa statistica. Un'ultima, coach, una considerazione sul suo collega, un giocatore maestoso come Sale Giorgiovic, ce l'ha detto in precedenza, meno male che non gioca, che cosa pensa di lui? Io penso che quando uno è stato un playmaker del suo livello, probabilmente uno dei migliori in Europa, si ha la testa per fare l'allenatore. Quindi già nella sua prima esperienza milanese e poi le vicende successive della squadra di Milano hanno dimostrato che allenare a Milano non è semplice, lui ha dimostrato personalità, ma quando uno ne ha come ne ha avuto a lui sul campo sarebbe stato strano che non ne mostrasse in panchina. Adesso c'è un grande desiderio da parte sua di ritornare, ritorna in un progetto importante come quello di Treviso, in un anno particolare nel quale la famiglia Benetton probabilmente per l'ultima volta sarà partecipe delle sorti della basket trevisiano e quindi io credo che probabilmente la scelta è una scelta di grande qualità. Grazie a tutti.